ahahahahah ahahahahah ma figa volevo usare bel vicano bel vicano bel vicano figa non ho non ho fatto in tempo due cani a fare un pacciamento figa battle royale attenzione gas in avvicinamento procedere alla zona sicura come vai? cazzo figa l'avevo partito così bene figa va veramente no cosa figa la prima volta non mi prendeva su l'arma di un cane vai ma ci ripogliamo ahahahahahahah volta per forza si ma bisogna giocare così e cassa di scorte individuata la voglio in sicurezza fuoco autorizzato su tutti i bersagli ostile in discesa nell'area occhio in alto ma vaffanculo mi sono cagato addosso sti cazzo di razzi ci però non sento un cazzo quando passano i razzi cioè obiettivi aggiornati battaglia alla prossima amici in zona ecco che mi piace lo steso ok ci sono io adesso basta cazzo eh dai granata e via nooo pensavo fossi te pensavo di te che io cane eh buttamma me figa che è con mia pensavo fossi te ho detto figa che mi stai inculando la corazza di un po' ora sei nel gulag lotta per tornare in azione mentre aspetti insulta pure quei bastardi e se trovi qualcosa da lanciargli addosso non fare i complimenti stai iniziando uno scontro preparati sei il prossimo se vinci questo scontro torni in prima linea se perdi è finita tocca a te soldati a te io cane nooo non mi ricaricava l'arma ma porco oddio che gioco del cazzo se ha abbastanza soldi il tuo timma può pagarti la cauzione e non mi ricarica l'arma uccanere scacciavo il bottone figa fuciva tutt'altro dai ma poi porco dio porco dio eh porco dio eh Contratto già qua Contratto completato Tutte le casse di scorte trovate Avete dei gatti in arrivo Franchetta localizzata Mi fai scendere o no Dio porco Ho trovato un pennington dai miei cojoni Un e 4 perfetto C'è una ultima o qualcosa C'è gente Dove? UAPI nemico in volo Sì, troppo, se non si sono Ah, secondo me sono su di qua Movimento Seconda mano Eh, anche per me Un po' togliamo, figa, vai Una terra Due claymore hanno messo giù, figa Ma come cazzo giocato, porto Dio Ma culo Ma come giocano, Dio Khan Bastardi 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 Non mi avrete mai Figa Sono entrato Figa Sono entrato Sono entrato Oh, è un livell'angolo che puntava con due e tre, mordio porco Ho pure che ci sia qualcuno Ohi, stazione medica trovata Dai, fammi sto piacere, si riesce appena appena, veloce, figa Questa è una mano Aspetta Che non so se mi sembrava qua sopra il suono per bello Dio Khan, fa una cosa veloce, magari il track ti mette sdraiato Grande, grande Arrivo, figa Dio, porco, eh Torniamola dove sei morto Fatta Dove sei morto E ci sono giù le placche Figa, sono entrato Figa Vengli hai fatti Ci è, tutte e due Non me l'avevo fatto prima Che ho fuori, l'altro è dentro Dove sei morto E te, sono entrato L'ho mangiato Vivo, figa Ci saranno Eh, avevo messo giù Avevo messo giù, 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 claymore Qua ci siamo entrato L'ho mangiato vivo, figa L'ho squagliato Sto stronzo di merda Fatto bene, figa Che cazzo è ferito là, un elicottero Un elicottero è caduto Qui c'è un bersaglio Mi muovo di qua Belli cani, io sto figa Oddio, da dove? Ah, ok Cazzo Oh, la madonna Vado odio, porco Non siamo gli unici a fettarli questi Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Vaffanculo, vada l'alante A terra Prendiamoci le nostre armi Ragazzi, in movimento Nuova zona sicura In 5 a terra Dio, cazzo, sono riuscito a buttarlo a terra Con il Bellington, figa Ci ranno anche io il Bellington Bellington e Mac Io l'RPG, dio, cane con la metragliazza, figa Ancora là, è appena sceso Ancora là Ancora sceso, sceso uno Ancora là, è appena sceso Avete del gas in arrivo Porco, sta figa di scale, dai Ora Uavì, nemico in volo Io c'ho fantasma, bro, eh Qui c'è un bersaglio Ragazzi, ho partito Spacchettato E attaccano No, piccane Ma dove? Ce n'erano dentro Eeeh, dentro Sì, dai Figa, camperato nell'angolo Una scorsa Ma dai Figa, ma non puoi giocare così Però, dio, porco Niente, mi prendo fantasma La mitraglietta L'RPG O lo scudo O il pompa E mi campero anche io Arrivati a questo punto Noi, stazione medica Trovate Eh, lo so, bro Si è arrivato a questo punto Se vogliono giocare così Potta giocare a camperato Eh Ficane Erano qua dentro Lo trovi? In movimento Si, primo piano Lasciate stare Proprio piano terra Figa Come entri Si, ma ancora lì È in fondo È in fondo Nell'angolo Nascosto Certo, non è in fondo Bacchanza Vai, chi entra? Va, chi entra? Come ci sono, i sopra Ai Si, sono, i sopra oi stazione medica trovata mi chavo sto giro figa grazie ma che pezzo di nervo che faccio un'imminente e ho visto andiamo di qua fra mi muovo ancora una corazza dovrò frusciare con la camarotola corazza qui un nemico in volo chi vuoi andare a prendere tui pezzi di merda alla venta ragazzi in arrivo spostamento della zona sicura c'ho due stun non ricordo hai da stun buone vincito granate colpi d'arresto sul mecca arriviamo arriviamo guapì nemico in volo vado su un attimo si di merda camperato lì con il suo cazzo di coso tattico sensore cardiaco aspettavo che mi avvicinavo poi è uscito come una lumaca come una merda figo dietro avanti sarà non lo so io vado giù state perdendo terreno lancio una granata siamo nel cerchio equipaggiatevi e preparatevi ma non c'è più nessuno intraglietta localizzata ma no mi sono preso le mie armi bruv e rpg ne hai 4 colpi per lanciatore marcati ci vedrete bastardi di merda di occare le colpe il treno non c'è nessuno corre sai che cosa ora laura qui ho dato impegno al tau il figale di tutto il gioco che ti occorre fra è mio io ho un bersaglio a culo grande pellicano così ti voglio aggressivo trasgre con i colpi occhio che lascia qualcuno funziona bene il pellicano oddio te l'ho puntato in testa sono 100 qualcosa metri mi muovo 170 metri quasi l'ho puntato in testa arrivato lasciate stare più easy bello 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 me gusta è bellicano che fai bellicani vediamo qua brutta nemico canepa figa dai dio perciò qualcuno movimento segnalo un bersaglio segnalo un bersaglio grazie oh dio è andato perca è andato gas in movimento Nuova zona sicura e individuata La safe è corta qua, se noi ci mettiamo su Guarda, noi ce le facciamo un paio Hai visto a nebro dove ho pingato? Sopra c'è gente Ma poi anche lo zoom non è male Da quelli cari Guarda che è un misto tra Una x50 Ah qua stanno sparando Qua bro, qua Di qua muoversi A terra morto, morto, morto UAPI nemico in volo Non ci arrivo io la con la mitraglietta Stai perdendo terreno Stai perdendo terreno NEMICO E' Pelicano che tira a terra Mamma mamma E' un mostro stacca Siamo nel cerchio E qui facciatevi e preparatevi UAPI nemico in volo Eh bro, giochiamocela bene Perché guarda che abbiamo tutto Mi sbocco NEMICO Sopra 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 Dove 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 Movimento Ok RAZZO PARTITO RAZZO PARTITO RAZZO PARTITO Sono rientrato RAZZO PARTITO non gli faccio un cazzo riapri la porta riapri la porta con lancia eh non ce l'ho più finite le munizioni di Yokane 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 è senza placche bro è sceso anche uno è sceso lì si lo vedo IL PELLICANINO CÈÈ che cazzoio che bombazza figa è il pellicanino mamma mamma no me lo momento anche io il pellicano no lo tiro allo su è un secondo cara fa paura è meglio dell'SP secondo me molto molto ma molto ma molto cazzo in arrivo zona scura e riposizionate guarda che ti lascio un po' di corazze bro corazza qui te ne lascio una va be anzi tu dai top top tiro tutto cazzo braverà guarda 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 ancora le 5 attivi nell'area operativa la pentate occhio che l'altro è un po' più sotto guarda Granata partita! Movimento! Morto! Marcato! Mi allontano! Ritiro tutto! Vincolo naturalizzato con un colpo! Che cazzo è? Se... Gassi in avvicinamento! Porco! Beh lo hanno spracchettato E più veicolo lo hanno spracchettato Se siete fuori dalla zona, muovete il culo! Uno a terra! 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 C'è un bersaglio! A terra! Uno! Qui c'è un bersaglio! Attenzione! Un team nemico vi insegue! Davanti a me c'è qualcuno! Movimento! Vado! E' arrivato! E' arrivato! E' senza munizioni di mettere da dietro bro! Aia! Proprio quello! E' adesso! No! Da dietro! Da dietro! Da dietro! Da dietro! Dio cane! Cazzo! Dove eravamo rimasti! Devo mettere la canna più lunga! Figa! Cazzo! C'è un cecchino con le zone lì eh! Dove sono morto io! Più là! C'è la maschera! C'è la maschera! Eh no! Figa! Ma una zarda! Oh! Stazione medica trovata! Eh no! Eh! C'era questa qua! Figa! Oh! Stazione medica trovata! Bersaglio indicato! Allora qua stanno sparando! Di qua! Muoversi! E anche qui! Ne restano 10! Bersaglio indicato! Procedere! Attenzione! Bombardamento di precisione! Alleato in arrivo! Dietro dietro! No! Non è niente! Un altro dietro! Un altro dietro! Grande! 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 Due callers! Possono per sempre rimasti! Ottimo lavoro! Oh! Ma come? Restavano solo 5! La prossima volta vinceremo! Marti diga! Stavolta!